Dopo tre anni di presenza sul territorio, il Consorzio Gran Monferrato del Tonagavi vuole fare il punto sulle attività e sui progetti realizzati e da realizzare. Attraverso la testimonianza di alcuni ospiti, in questo speciale, faremo quindi un riepilogo sull'attività svolte dal Consorzio, che si propone essere sul territorio un collettore di esperienze turistiche. Iniziamo il nostro racconto contestualizzando il progetto. Il Consorzio Gran Monferrato del Tonagavi svolge un lavoro di promozione turistica del territorio attraverso azioni dirette e concrete, utilizzando anche tutti gli strumenti che quest'epoca digitale ci offre. Ne parliamo con il direttore del Consorzio, Marco Prosperi. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cominciamo dal principio spiegando a chi non lo conosce, soprattutto da fuori, che cos'è il Consorzio Gran Monferrato del Tonagavi? Quando nasce? Allora, il Consorzio Gran Monferrato del Tonagavi nasce il 28 novembre del 2020, dopo una lunga riflessione del periodo del Covid. Quindi, quando eravamo in lockdown abbiamo pensato a come e abbiamo iniziato a riflettere. Abbiamo capito che è un territorio che aveva delle potenzialità infinite, che andavano ben oltre quello che è già più conosciuto mondo dell'enoturismo, dell'enogastronomia, che per noi è un asset strategico fondamentale e su cui ci basiamo. Ma che si poteva costruire un tipo di turismo sostenibile, un tipo di turismo legato al turismo lento, legato al turismo dolce, alla bicicletta, alle camminate, alle passeggiate a cavallo, in una natura dove la gente aveva più bisogno di allargarsi. Un po' un ritorno, se vogliamo, alla villeggiatura, ma con una componente molto più moderna, molto più innovativa, diciamo. Nato il Consorzio, che è un progetto di fatto di marketing territoriale, e il Consorzio vuole rispondere a una legge regionale che prevede il sostegno della regione a dei consorzi riconosciuti. Insieme è tutta una serie di aziende private che operano nel mondo del turismo, ma non solo, e che in qualche modo ha l'obiettivo di comunicare tutto il territorio sotto un unico brand, che parli all'Italia, ma che parli soprattutto all'estero. A proposito di 2.0 e di comunicazione, come vediamo alle nostre spalle, stanno scorrendo le immagini di navigazione del sito. Uno degli strumenti principali, ma non è l'unico. Non è l'unico. Chiaramente il turismo di oggi non si può fare se non attraverso gli strumenti digitali. Noi abbiamo il portale, il sito internet del Consorzio, abbiamo i canali social. Il portale per noi è un elemento strategico fondamentale. Abbiamo lavorato per tre anni su dei contenuti editoriali. Escono più di tre articoli alla settimana, da tre anni, che parlano di territorio. Lo abbiamo fatto con l'obiettivo di posizionare alcune determinate parole chiave. Vi faccio un esempio. Se voi oggi digitate dormire in Monferrato, mangiare in Monferrato, il Gran Monferrato è il primo per posizionamento naturale, che vuol dire che chiunque abbia in testa in questo momento di venire a mangiare o a dormire in Monferrato si imbatte per forza nel nostro portale. Per esempio, un altro progetto che stiamo per mettere in pista è quello dei percorsi. Quindi uno può scaricare i percorsi in bici, a cavallo, a piedi, scaricare le tracce GPS, fruirle su dei telefoni. Il meccanismo è sempre quello. Attraverso il mondo del motore di ricerca io vado a prendere l'utente, ma quando lo porto lì lo faccio navigare all'interno di una serie di servizi, per cui lui si dovrebbe appassionare e avere una ragione in più per venire. Chiudo dicendo che l'altra parte è quella dei social network. Oggi noi facciamo 2.000, circa, forse qualcosa di più, pagine al giorno viste per 500-600 utenti differenti, quindi con una buona percentuale di pagine navigate per utente e la metà di questi arrivano dai social network e la metà di questi arrivano dai motori di ricerca. Direttore, si fa presto a dire il consorzio, ma come si sviluppa l'attività ordinaria tra ideazione, progettazione e poi realizzazione? Ecco, hai toccato un punto fondamentale. Il consorzio è fatto di soci, noi mettiamo in relazione i soci. Il nostro lavoro deve essere quello di farli parlare tra di loro, di far costruire tra di loro dei pacchetti turistici, delle esperienze condivise, ma soprattutto i soci devono dare a noi l'idea, l'esperienza, che cosa vuole il loro turista tipo. E noi lì ci costruiamo il contenuto editoriale, ci costruiamo il pacchetto, ci costruiamo l'esperienza e la commercializziamo. Infatti tra le ultime iniziative di carattere commerciale a favore di tutti i partner e naturalmente del visitatore, direttore, c'è la CARD. C'è la CARD, è il nostro loyalty program, è un programma di fidelizzazione, la Gran Monferrato del Tonagavi CARD. È una CARD non di brand come siamo abituati noi ad avere sulle grandi catene, per cui io posso andare in tutta Italia e con quella CARD accumulo punti. Qui invece è di territorio, quindi è solo legata al nostro grande territorio, dei cinque centri di zona, ripeto Casale, Ovada, Acquiterme, Tortona, Gavi. In tutti gli esercenti che aderiranno al progetto della CARD sarà possibile accumulare punti e ottenere degli sconti. Insomma, come vedete, le cose da dire sono tantissime. Noi vi rimandiamo al nostro portale, al nostro sito e tutti i canali social per ogni approfondimento. Nel ringraziare il direttore per questa panoramica sul consorzio Gran Monferrato del Tonagavi possiamo dare il via agli ospiti che si avvicenderanno durante questo speciale per portare la propria testimonianza. Abbiamo scelto una piccolissima rappresentanza di quelli che sono i consorziati. Certo, intanto non vi spoilerò niente e quindi dovete vedervi il video e l'intervista per capire chi verrà dopo. Diciamo che abbiamo scelto dei rappresentanti significativi sia per territorialità che per tipologia. Grazie Marco Prosperi. Grazie a voi, grazie Jenny. Ciao a tutti. La proposta del Gran Monferrato passa attraverso vari percorsi, letteralmente. Uno dei progetti più recenti del nostro consorzio è il suo spin-off La strada dei vini e dei sapori del Gran Monferrato, un progetto di promozione enoturistica che, nato di recente e formalmente riconosciuto dalla regione Piemonte, vanta già il premato di essere, in quanto a chilometraggio, la strada più lunga d'Italia e con una ricchezza davvero ampia di vitigni. Ne parliamo con Franco Angelini. Franco, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Parli in rappresentanza della strada, che è un'associazione preseduta, lo diciamo, da Carlo Ricagni. Parli anche in qualità di produttore nel rappresentare l'area casalese. La strada interessa i tre grandi centri zona, anche del nostro consorzio, casalese, acquese e ovadese. Molto è già stato fatto, soprattutto nelle fasi di avvio, ma la strada sarà tutta da percorrere, tutta da vivere. Anche in attesa del 2024, che sarà l'anno del riconoscimento europeo, città europea del vino, Alto Piemonte e Gran Monferrato. Ma cominciamo dall'inizio, dalla strada. Un progetto dedicato al vino che fa grande il turismo. Sì, la strada non c'era e quindi ci voleva. Ci voleva un'attrice principale che coinvolgesse tutti il reparto enogastronomico. Quindi parlasse sia dei produttori vitivinicoli che anche dei produttori del nostro agriturismo e dei nostri ristoranti. Perché no? Perché comunque sia, oltre a essere la strada più lunga d'Italia, coinvolge tutto il comparto enogastronomico e molto particolare. Quindi con varie particolarità, soprattutto molto importanti. Parlando del casalese parliamo di grignolino e perché no anche dei crumiri. E poi andiamo nell'acqueso dove abbiamo gli aromatici. Andiamo nell'ovadeso dove abbiamo il dolcetto. Quindi si parla di grandi rossi e anche grandi vini aromatici. E della strada principale che ci voleva. E siamo anche i più grandi d'Italia. Quindi possiamo anche dire di essere orgogliosi di ciò. E il prossimo anno ci sarà anche questa città europea del vino. Questo riconoscimento molto importante che attenerà sicuramente del turismo. E che soprattutto noi con la strada abbiamo quindi vari percorsi. Percorso che si può fare col trekking o a piedi, con walking tranquillo. Oppure anche con le nostre biciclette, con le bike. E quindi un discorso turistico molto importante che coinvolgerà a 360 gradi il turista. Quindi allora occhio alla strada con la S maiuscola. E grazie a Franco Angelini per avercela portata oggi. Grazie a voi tutti. Il nostro viaggio sul territorio prosegue con una delle zone che in provincia di Alessandria vanta la tradizione più consolidata in fatto di accoglienza turistica. Parliamo dell'Acquese, una città che nonostante alcuni momenti di difficoltà ha sempre saputo rinnovarsi, adattarsi al cambiamento pur mantenendo forte la propria identità. Ne parliamo oggi con Annalisa Piccini, responsabile di struttura dell'hotel Valentino di Acquiterme che parla a nome della rappresentanza del comparto di accoglienza turistica. Annalisa, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno, buongiorno Jenny. L'Acquese come appunto un po' zona pionieristica e capofila di quello che è il turismo in provincia di Alessandria. L'impronta anche dall'estero è sempre forte sul nostro territorio? Sì, Jenny, intanto sono onorata di rappresentare gli albergatori di Acquiterme. Io appunto mi occupo di una struttura, l'hotel Valentino, che riceve in stagione una buona parte di turisti stranieri, devo dire. L'impronta è sempre molto forte perché anche se c'è stato un leggero calo durante i vari lockdown, eccetera, ma è ripreso forse prima di altri settori turistici. Il turismo straniero ha ripreso alla grande. Essere associati a Gran Monferrato per noi è molto importante, ritengo, perché ritengo che sia una vetrina che può essere vista da tante persone, soprattutto se ci impegniamo anche noi a farla conoscere. Cioè, parlavo l'altro giorno con un collega, succede che c'è un'interazione col Gran Monferrato veramente importante. Noi pubblichiamo post, eventi sui social, le ragazze del consorzio sono pronte a chiamarci, vedere di rilanciare sul sito oppure sui social di Gran Monferrato le nostre offerte. Allo stesso tempo, se vediamo che ci sono degli interessi da parte dei turisti sulle zone, che non è detto che sia solo la quese, ma anche l'ovadese, il tortonese, insomma, tutto quello che fa parte del mondo del Gran Monferrato, ecco, aiutare l'utenza a trovare le particolarità e l'esperienza che stanno cercando, perché sicuramente la si trova. Credo che ultimamente si debba un pochino uscire dagli schemi. Cioè, andando a cercare tutte quelle particolarità dei territori che abbiamo, che noi diamo per scontate, perché purtroppo noi siamo in zone dove non siamo abituati a valorizzare quello che è intorno a noi. Lo diamo troppo per scontato. Invece, se ognuno nel territorio, adesso non so, quest'anno, anzi, 2024, sarà per l'ovadese e la quese l'annata del vino, no? Perché siamo stati nominati. Quindi è un traguardo molto importante che andrebbe valorizzato. Dire sfruttato è brutto, però in realtà è anche la parola che forse viene meglio. Oppure tutte quelle qualità che nei vari territori ci sono, quindi il casalese, guardare cos'è che ha di importante, di bello. È ovvio che siamo tutti territori agricoli. Quindi chi è più in collina, chi è più in pianura, chi ha opere d'arte, chi ha monumenti, chi ha castelli. Ecco, sfruttare tutto quello che c'è di bello nei nostri territori, perché siamo veramente ricchissimi, solo che non ce ne accorgiamo il più delle volte, secondo me. Sovente proprio si cerca la destinazione turistica lontana quando abbiamo dei tesori da scoprire quasi a casa nostra. Tante persone lamentano la carenza di esperienze che si possono fare o meno. Io lavoro ad Acqui da 20 anni, ma non sono di Acqui. Dico sempre, ad Acqui ci sono un sacco, veramente tantissime esperienze da fare. Sfido una quese ad averle fatte tutte, dalla piscina storica, lì, termale, al castello dei paleologi, ecco, a tutte esperienze che si possono fare e pochi conoscono, pochi sanno anche consigliare. Vero, confermo da giornalista giungo che chi si lamenta è perché è poco informato. Quindi vi invitiamo a visitare i nostri mezzi di informazione e comunicazione, a cominciare dal portale e a ricaduta a tutti gli spin-off che si creano. Intanto grazie Annalisa Piccini. Grazie Jenny e grazie a Gran Monferrato. Adesso vi raccontiamo una storia di successo all'interno del nostro consorzio che, nato come consorzio Gran Monferrato, è diventato poco dopo tempo Gran Monferrato-Dertona-Gavi. Due zone, queste ultime, del Tortonese e del Gaviese, che si pensavano differenti, si scoprono invece molto più simili di quanto pensassero e decidono di collaborare facendo il bene del territorio insieme al nostro consorzio. A parlarne è Gian Paolo Repetto, membro del CDA del consorzio e anche volto noto del mondo del vino, essendo anche presidente del consorzio di tutela dei Colli Tortonesi. Gian Paolo, buongiorno, bentornato. Grazie, buongiorno Jenny. Come dicevamo, un progetto che alla fine è quello di ricondurre insieme territori con caratteristiche ed entità diverse che riescono a valorezzarsi l'un l'altro. Si sta succedendo quello che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Oggi abbiamo due realtà che prima lavoravano separate, una su Derto Nagavi e l'altra su Gran Monferrato, che hanno capito che unendosi possono fare un lavoro completamente diverso e molto più strutturato. A Tortona siamo partiti con 15 imprenditori che hanno fondato Quarto Piemonte, abbiamo fatto un lavoro molto simile a Gran Monferrato, abbiamo scoperto che in realtà stavamo facendo un doppione della stessa cosa. Abbiamo, confrontandoci, trovato la strada per lavorare insieme, qualcosa che appunto oggi è possibile e fino a non molto tempo fa sarebbe stato impensabile. Oggi è veramente una storia di successo, stiamo lavorando insieme, abbiamo progetti, abbiamo la parte servizi, abbiamo la parte promozione e sta diventando qualcosa di veramente molto importante per tutta la provincia di Alessandria. Grazie Gian Paolo Raffetto. Grazie. Parliamo di mobilità sostenibile e turismo. Auto, moto, trekking, ma non solo, sta prendendo sempre più piede il fenomeno dell'e-bike, della bicicletta magari con pedalata assistita. Il consorzio Gran Monferrato d'Ertona-Gavi, forte dei paesaggi vitivinicoli riconosciuti patrimonio dell'umanità Unesco, ha investito molto in questa direzione, avvalendosi di partner qualificati, tre migliori in Italia, suggeriamo noi. A parlarcene è Silvia Casarotto per conto dell'azienda partner già molto nota sul territorio che ha deciso di entrare in sinergia con il consorzio per dedicare, offrire questa possibilità ai visitatori anche stranieri che proprio ricercano queste particolarità. I progetti sono davvero tanti, ma cominciamo dall'inizio. E-bike e progetto quindi Monferrato Bike, di cosa si tratta? Grazie innanzitutto. La nostra è un'azienda che è nata nel tempo per distinguersi appunto tra le altre per gli investimenti che ha fatto. Siamo forse uno dei più grandi player sul mercato dedicato al mondo della bicicletta pedalata assistita con un parco di oltre 5.000 e-bike. Parliamo sostanzialmente al territorio attraverso l'utilizzo delle nostre biciclette, attraverso la creazione di eventi tra i quali appunto la Mangia, Bevia e Pedala, che parla appunto di turismo ciclabile in Monferrato e sinergie che le biciclette possono creare con altri interlocutori, quindi cantine e soggetti appunto del turismo in generale. Ma l'e-bike si può praticare, svolgere durante tutto l'anno? Sì, la bicicletta pedalata assistita innanzitutto è uno strumento adatto a tutti e sostanzialmente una bicicletta tradizionale dotata di motore e batteria che permette assolutamente appunto di essere facilmente integrata a tutti i livelli, quindi abbracciare un pubblico molto ampio, soprattutto di non sportivi e non agonisti. Grazie intanto a Silvia Casarotto per averci portato questa esperienza. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi. C'è Banca del Piemonte, rappresentata qui in studio dal direttore della filiale di Casale Monferrato, Paolo Mazzucco. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto parliamo del vostro ingresso tra i partner principali del nostro consorzio. Perché investire sul territorio, quindi sul consorzio? Quali valori ricercate? Allora, la nostra banca è una banca regionale privata che ha aderito al consorzio per i presupposti di sviluppo del nostro territorio. La nostra banca è appunto una banca fondata ben 112 anni fa, addirittura nel 1946 era stata poi fondata la banca di Casale del Monferrato, quindi siamo sempre stati legati al nostro territorio. Ragion per cui siamo contenti di sostenere questo consorzio e seguire i vari soci nelle varie pratiche e di essere supporto economicamente. Lei si occupa in particolare delle PMI, delle piccole e medie imprese. Qual è la fotografia sul nostro territorio? Allora, io seguo appunto le PMI sul mio territorio. In questo momento qua è un momento un po' distasi, ma speriamo per una ripresa pronta per il prossimo 2024. Guardando invece al 2023, siete soddisfatti del lavoro che il consorzio ha fatto sul territorio? Quindi possiamo contare sull'appoggio di Banca del Piemonte anche in futuro? Siamo soddisfatti e abbiamo visto delle belle iniziative e eventi che stanno promuovendo il nostro territorio. La banca dà anche attenzione a iniziative di promozione e sostenibilità sul territorio. Il nostro consorzio ha diverse attività, pensiamo al turismo che si propone attraverso i percorsi di e-bike, pensiamo a tutto quello che è sempre stato chiamato sostenibilità e green. Sì, la banca è molto interessata a questi progetti di ecosostenibilità. Aderisce molto ed è pronta a sostenere i vari progetti. Grazie allora al direttore della filiale di Casale Monferrato di Banca del Piemonte, il dottor Paolo Mazzucco. Grazie a voi. Capitolo Giovani, il consorzio Grammoferrato Dertona Gavi guarda al futuro in tutti i sensi. Lo fa attraverso l'attività anche degli under 40 e che sono rappresentati in studio per la parte del tortonese e del gaviese da Marco Volpi. Ciao Marco, ben arrivato. Ciao, grazie mille. Tu sei anche presidente dell'associazione Dertona Giovani, un'associazione che è nata circa un anno fa e che conta già 50 soci. L'ispirazione è stata presa anche dai colleghi, dagli amici del Gavi per fare del bene al territorio che poi è l'obiettivo anche del consorzio. Come è nata questa avventura? Esatto, l'avventura nasce circa un anno e mezzo fa, in realtà è in maniera non ufficiale quando scopriamo quanto fosse bello incontrarsi, conoscersi tra giovani del tortonese di diverse realtà. Il territorio del tortonese è un territorio molto eterogeneo, quindi non è solamente legato ad una sola produzione ma a diverse realtà. E anche la nostra associazione è così, lo rispecchia e rispecchia questa eterogeneità, quindi non solamente vino. Oggi noi abbiamo la fortuna di avere un vitigno, il timorasso e un vino, il Dertona, che ovviamente sta facendo da volano per l'economia di Colli Tortonesi, ma abbiamo tantissime altre realtà legate alla filiera dell'agroalimentare e non solo, che sono in crescita e che vogliamo promuovere. Il nostro obiettivo, hai detto bene, è quello di promuovere il territorio e cercare di valorizzarlo, parlando dapprima con i giovani, quindi riuscire a parlare con i nostri coetanei, ma non solo, e quindi cercare di portare un po' di innovazione, cercare di avere l'entusiasmo che ci caratterizza e di far conoscere il territorio, prima nel tortonese e poi anche fuori dal tortonese. Allora, grazie Marco Volpi del tuo supporto, il Consorzio informerà anche delle vostre attività, la campagna di stesseramento del nuovo anno è aperto, sia per l'associazione Dertona Giovani, ma anche per l'attività del Consorzio Gramoferato Dertona Gavi. Grazie Marco. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie mille. questa sezione giovani per cui ti è stato proprio dato il mandato dal CDA di costituire una squadra per lavorare su un progetto, quindi da chi è composto questo team e quali sono i vostri obiettivi? Allora, in questo caso noi abbiamo un team proprio dedito a questo, che ci è stato chiesto direttamente dal CDA del Consorzio, in cui coinvolgiamo tutti i giovani che ci sono, che hanno preso proprio carico e si sono presi l'impegno del continuare la tradizione, del portarla attualmente al presente e quindi contestualizzandola a quello che è il territorio del Gran Monferrato e sono tutti i rappresentanti di questo consorzio giovani che cercano in qualche modo di continuare le attività che sono sia in ambito gastronomico sia in ambito turistico quelle che contano di più e quelle che danno proseguio e quindi futuro al nostro territorio. Lo fate anche pensando però a formule innovative come la generazione nostra, mi allargo di qualche anno, vuole, ad esempio i social, ad esempio i canali digital, quali sono i vostri impegni? Assolutamente, cioè i nostri impegni intanto il proporre delle iniziative che siano il più possibile innovative e al passo coi tempi e quindi relative alla comunicazione del consorzio Gran Monferrato che attraverso sponsorship ad eventi, attraverso partecipazioni, attraverso proprio il coinvolgere anche proprio le singole attività all'interno di questo lavoro di comunicazione sia internamente che esternamente, quindi anche a livello internazionale devo dire, stiamo cercando di portare il nome Gran Monferrato e quindi ovviamente il CDA poi prende in considerazione le nostre proposte e cerca in un qualche modo di selezionare quelle che appunto rispetto a quello che ci richiedono e a quello che abbiamo proposto noi che sono in sintonia con gli obiettivi. Grazie Giulia. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti. Quattro e ancora di più, gettando lo sguardo oltre, a lungo termine. Il consorzio dove andrà? Il ruolo del consorzio è quello di comunicare, è quello di amplificare il nostro territorio al fine di aumentare l'incambio in turistico. Amplificare il territorio vuol dire valorizzare gli attori che sono su questo territorio e i loro sogni. Un giro in bici, una camminata, una bella mangiata e bevuta, un soggiorno in una struttura, sono tutti sogni che già oggi ci sono e vengono venduti dai singoli. Quello che noi dobbiamo andare a fare come consorzio è valorizzare questo e comunicare questo tramite un'agenda. Quindi l'impegno per quest'anno, nel 2024, è proprio creare un'agenda digitale degli eventi e dei pacchetti, quindi delle esperienze che ci sono sul nostro territorio. Deve essere un'agenda, come dire, garantita e multilingua. Garantita perché? Perché oggi questi singoli sogni, queste esperienze, vengono già fatte, come abbiamo detto, dai singoli esercenti. I quali però devono chiamare i singoli attori, chiamare la cantina per sapere se è aperta. Quindi è un impegno che ha il singolo. Ecco, noi dobbiamo alleviare tutto questo e far sì che invece sul nostro portale ci sia proprio una calendarizzazione e una garanzia che quell'esperienza ci sia. Il nostro portale oggi, direi che sia un portale molto interessante perché in un anno ha quasi raggiunto oltre 200.000 visitatori unici. E questo per noi è una cosa importantissima. Vuol dire che la strategia di comunicazione del consorzio ha funzionato. Ricordiamoci che due anni fa Gran Monferrato non esisteva neanche. E quindi l'avere un numero di accessi del genere vuol dire che gli sforzi che stiamo facendo sono nella direzione giusta. Quindi questo portale, oltre a comunicare, dovrà permettere ai turisti di poter prenotare. Prenotare queste esperienze che devono essere calendarizzate in maniera ricorrente. Cosicché un esercente alla fine potrà dire al proprio turista, al proprio cliente, questa settimana si possono fare queste cose. Questo è un obiettivo a breve che è strategico. E si può fare adesso perché tutta l'infrastruttura informatica è stata fatta. Altri due asset importantissimi sono le due celebrazioni. Quindi del riconoscimento dei dieci anni dell'UNESCO, del territorio, Langero e Monferrato. E il riconoscimento importantissimo della città del vino europea per l'Alto Piemonte e Gran Monferrato. Per il medio lungo, abbiamo degli asset che devono essere valorizzati. Sono l'asset, ad esempio, del turismo lento. Quindi camminate, biciclette, gravel. Gravel è la parola d'ordine. Gravel sta spopolando ormai nel mondo. E l'essersi assicurati sul nostro territorio per tre anni, una tappa del mondiale gravel, è un asset strategico importantissimo. Abbiamo altri asset, è stato ritornando ormai la città dell'oro, un territorio dell'oro. Abbiamo un asset, quello della danza. Abbiamo tantissime cose che dovremo cercare pian piano di valorizzare, sempre in una logica però di turismo, ovvero di esperienze. E comunicate. Se riusciamo a fare questo, direi che il progetto del consorzio ha avuto un successo. Quanto all'attività consortili in sé, nel ringraziare e confermare ciascuno dei partner che ci accompagna, che accompagna il consorzio nel corso dell'anno, si può dire che c'è margine anche per attrarre nuovi soci in consorzio. Assolutamente. L'attività è ferve. Diciamo che noi in questo momento ci siamo limitati, tra virgolette, proprio perché era importante comunicare un sogno. Noi abbiamo utilizzato un concetto, i founder, che sono stati delle persone dove non smetterò mai di ringraziarli perché ci hanno permesso di vivere un sogno grazie ai loro fondi. E ricordo, non c'era nulla. Quindi queste persone hanno scommesso sul territorio. Da adesso in avanti cercheremo ovviamente di aumentare invece il numero dei soci perché ormai il progetto è concreto, esiste, è maturo e quindi c'è l'opportunità di far crescere questo territorio come associati. E allora si chiude così con il presidente Andrea Guerrera, questo speciale che il consorzio Grammoferrato Dertona Gavi ha voluto per illustrare le principali attività svolte nel corso del 2023 e suggerire, spoilerare, abbiamo detto col direttore, quello che verrà nel nuovo anno e non solo. Per tutti gli approfondimenti, le novità e la quotidianità e anche per associarvi, vi invitiamo a visitare ancora una volta, lo ripeto, il nostro portale grammoferrato.it e tutti i canali social e l'attività digitale, anche quella tradizionale che durante l'anno portiamo avanti. Allora, grazie presidente. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Viva Grammoferrato, viva Dertona, viva Gavi. Grazie a tutti.